Un saluto da Ficcanaso. Oggi mi occupo di legge finanziaria. La manovra per il 2020 e all'esame della Commissione Bilancio del Senato presto approderà come maxi emendamento immagino in aula con tutte le proposte emendative che sono 4.500, insomma ce ne sono molte di maggioranza. Tra quelle di maggioranza alcune sono state già rigettate, altre invece sono pesantemente segnalate dai componenti, cioè Movimento 5 Stelle, Liberi Uguali, PD e Italia Viva. E questi emendamenti possono essere molto interessanti, riguardano da vicino anche i medici di famiglia. Intanto facciamo una disamina della finanziaria, vediamo questo telaio. Questo telaio si riassume in tre norme per la sanità, le più importanti sono abolizione del super ticket a 10 Euro a ricetta, sulla ricetta specialistica, il gettito proveniente da queste ricette alle regioni in realtà sarà colmato dallo Stato con 554 milioni. Lo Stato riprenderà a spendere i 32 miliardi dell'edilizia sanitaria per riammodernare gli ospedali del servizio sanitario, ma ci dovrà mettere altri 2 miliardi per riammodernare il parco macchine. Da questi 2 miliardi sono tratti 235 milioni erotti da destinare ai medici di famiglia attraverso le ASLA. Cioè le ASLA hanno questa somma, la devono spendere in apparecchiature per gli studi dei medici di medicina generale, quali spirometri, dermatoscopi, elettrocardiografi. Ora, queste apparecchiature finiranno ai medici di medicina generale e proprio da qui cominciamo la nostra disamina degli emendamenti, perché uno, a firma di Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle, detta finalmente un criterio con il quale questi macchinari finiscono ai medici. E cioè vengono assegnati prioritariamente ai giovani, quelli con meno di 5 anni di convenzionamento, e prioritariamente ai medici che fanno parte di aggregazioni funzionali territoriali e unità complesse di cure primarie. Si vuole benedire i sindacati che hanno voluto i gruppi? No, si vuole benedire, tra virgolette, il medico che ha dimestichezza con collaboratori di studio e infermieri che nella gestione di casi complessi gli tolgono delle parti sia burocratiche sia cliniche e gli consentono di ritagliarsi del tempo per fare un'attività che, detto fra noi, previa formazione, il medico di famiglia, detto fra voi, il medico di famiglia sa fare sempre, sia che sia in gruppo, sia che non lo sia. Però, diciamo che avere un criterio è interessante, sono interessanti anche altre considerazioni nello stesso emendamento, così come ad esempio il fatto che questi dati vanno collegati informaticamente agli archivi delle regioni e delle ASL e che li leggeranno, questo ha delle implicazioni in termini di responsabilità, ma soprattutto per il momento se ne parla in termini di software che dovrà essere unico per tutta Italia con buona pace delle spinte di ogni regione a voler fare le cose in casa. Noi siamo il paese del vino, dei produttori di vino, tantissimi e anche le regioni ognuna vuole fare il suo vino ed è anche giusto. Il problema è un altro, che tra tante cose, anche lo stesso legislatore, ogni tanto di vino ne fa suo interessante tipo, sempre nello stesso emendamento, dire che non solo i medici di famiglia convenzionati, ma anche i medici di famiglia dipendenti, devono avere accesso alle apparecchiature per la diagnostica di primo livello, trovatemi i medici di famiglia dipendenti. Forse i condotti, adesso vediamo un po', diciamo che non c'è solo questo. Ci sono altre norme interessanti, in particolare al territorio vanno anche 35 milioni, sempre in un altro emendamento del Movimento 5 Stelle, che sono destinati ai medici del 118, perché sono in larghissima parte convenzionati. Altri 42 sono destinati alle prestazioni aggiuntive dei medici di pronto soccorso che invece sono dipendenti. Questo cosa significa? che si vuole rendere appetibile un contratto che ha sempre meno estimatori, specie tra i giovani. Non è finita i 2 miliardi per l'ammodernamento sanitario, anche edilizio, la spesa deve essere destinata anche a costruire hospice, ricavare residenze, long term care, ma anche ad allarmare meglio le sedi di continuità assistenziale e a costruire case della salute e studi attrezzati per la medicina generale, le cure primarie. Quindi abbiamo delle cose molto interessanti. abbiamo anche postato come maggioranza, non faccio parlare della maggioranza, però il concetto è la maggioranza dice di aver postato alcuni milioni per 2.000 borse specialistiche in più e di aver assegnato all'agenas dei compiti di esame dei dati della formazione continua dei crediti di ogni iscritto alle varie professioni sanitarie. E dice anche di voler vedere assegnati 500 euro ad ogni famiglia non povera, diciamo povera e non povera, entro i 25.000 euro di reddito anno di ISE per coprire, come bonus dentista, delle spese odontoiatriche, cosa che non c'era mai stata fin qui. Le spese odontoiatriche sono coperte solo dal 19% a titolo di detrazione sulla cifra pagata all'odontoiatriche solo per i redditi veramente più poveri, condizioni di vulnerabilità e di redditi inferiori a 8.000 euro ISE anni. Quindi si alza la soglia e probabilmente è una parziale compensazione di quello che forse è un po' uno sgarbo ai redditi più alti, cui viene tolta gradualmente la possibilità di detrarre dopo i 120.000 euro di annui di reddito. Questo è tutto, c'è anche una misura per attribuire la possibilità di fare farmacie di capitali soltanto se si ha una maggioranza di farmacisti in carne e ossa iscritti all'albo, 51% o più, o si è posseduti da una società fatta in maggioranza, anzi in totalità di quote di farmacisti iscritti all'albo. Si torna un po' indietro sulla legge concorrenza, ma anche qui si tratta di emendamenti, chi vivrà vedrà se sopravvivranno. Ai posteri l'ardua sentenza, un saluto da Ficcanaso. Al prossimo episodio